x1 the world's toughest screen protector ciao a tutti sono giulia e sono qui per testare un nuovissimo prodotto ma lascio voi giudicare ma devi solamente tenere in mano il telefono e cercare di romperlo con le forbici allora cosa ne pensi fattesco è stupendo è favoloso guarda addirittura impensabile fantastico grazie grazie